Non si può dire che sia stata fatta una grande promozione del referendum e quindi il servizio pubblico che si sveglia forse in queste ore non ha certamente stabilito incontri, discussioni, dibattiti su un tema importante come la giustizia, cioè sulla libertà delle persone, sul fatto che qualcuno possa decidere con elementi relativi sulla vita di una persona che diventa colpevole per un tempo indeterminato e magari è innocente. Questo dovrebbe farvi inflettere sull'opportunità di votare sì ai referendum, soprattutto pensando che la RAI ha fatto il suo servizio in questi termini. In una trasmissione popolare Luciano Litizzetto si è alzata e ha detto non votate il referendum, state a casa. Certamente questo è un segnale molto importante per il referendum perché quanti di voi la conoscono sanno che potranno fare esattamente l'opposto di quello che non andate a votare, perché molti lo faranno per non ascoltare le sue parole.